La Regione continua il suo piano di riordino della sanità. Dopo le recenti polemiche circa la chiusura dei punti nascita, ascoltate tutte le parti, viene presentato un protocollo operativo che sembra percorrere punto per punto tutti i capitoli di manifesta preoccupazione. Si agisce sul percorso nascita e si potenzia il trasporto per i Natale. Un protocollo per la rete di emergenza urgenza perché noi ci siamo impegnati all'atto della programmazione della realizzazione del percorso nascita di dotare l'abruzzo di un percorso nascita molto più sicuro di quello che è ereditato. E pertanto l'introduzione della Stam e la Sten era un nostro impegno, l'elisoccorso e anche l'elisoccorso notturno tutto è oggetto del protocollo che abbiamo appena sottoscritto e ringrazio di questo i tanti tecnici che hanno lavorato sia sul profilo della rete di emergenza urgenza sia sul profilo della programmazione del percorso nascita per adeguare queste regionali standard migliori di questo paese. Necessità di garantire più sicurezza e prontezza di intervento e così viene annunciato un investimento di 10 milioni di euro per implementare numero e qualità dei mezzi di soccorso. Abbiamo 43 postazioni di 118 di cui 16 obsolete, vorremmo raggiungere le 60 postazioni e abbiamo messo in bilancio 10 milioni di euro per le nuove postazioni di 118 e per il rinnovo di quelle obsolete. Monitoraggio costante della mamma e del bambino soprattutto per i trasporti di lunga distanza e una chiara definizione delle responsabilità nella rete emergenza urgenza. Io ritengo che investire sulla rete di emergenza urgenza e successivamente sui tempi d'attesa sia uno dei due pilastri sui quali ci giochiamo il consenso delle persone.